Dopo settimane di attese e polemiche è scattata all'ora X in via Fiorentina. Come annunciato a conclusione del Consiglio Comunale Aperto, proprio sul tema, sono infatti cominciati oggi ed andranno avanti sino al prossimo 3 agosto i lavori sull'opera e sono state così introdotte le prime limitazioni alla circolazione. I lavori partono dai sottoservizi che serviranno per il cantiere della Rotonda. Per sei giorni saranno così chiuse alcune strade per consentire i lavori. Non saranno percorribili via Pitagora, viale Don Minzoni e in zona Rezzo Fiere. Dalle 8.30 di oggi fino al termine dei lavori è istituita la chiusura totale al transito veicolare sia in ingresso che in uscita dalla città, in un tratto di via Fiorentina all'intersezione con viale Don Minzoni e viale Giovanni Amendola, che diviene così strada senza uscita per i veicoli che percorrono via Fiorentina da Salleo verso il centro città, modifiche poi anche in viale Giovanni Amendola. Negli stessi giorni orari e temporaneamente è istituito il divieto per i pedoni sul marciapiede di via Fiorentina nel tratto che va dal civico 177 sino all'attraversamento pedonale presente sulla corsia di incalanamento da via Fiorentina a viale Don Minzoni. Sarà garantita comunque la circolazione alternativa.